Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV2000 e il sito internet del Santuario TV Lourdes. Oggi avrebbero dovuto essere presenti i partecipanti al pellegrinaggio Maria Mater Infirmorum, Unitalsi Pugliese e Molisana, Amasi Bari, Loftal Concordia Acquiterme, Gruppe Rosa Mistica, Pellegrinaggi di Fede e Valsi Onlus. A nome loro abbiamo acceso il grande Cero che si trova accanto al Candelabro. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e il Papa Francesco, per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono. Preghiamo per quanti oggi hanno lasciato questo mondo perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo inoltre per la conversione dei pecatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'Angelo a Maria. Rallegrati Maria, colui che nascerà da te sarà santo e chiamato figlio di Dio. Maria disse, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. O Maria, grazie per la tua fede forte, grazie perché ti sei fidata di Dio e ci insegni a fidarci pienamente del Padre che chiama anche noi alla vera libertà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga e il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro Padre di Dio, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a sua cugina Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. O Maria, insegnaci con l'esempio della visitazione che la gioia si trova spendendo la vita per Cristo. E' così, infatti, che ci si prepara ad entrare con Lui nella gloria del Padre Celeste. Possa lo Spirito Santo rafforzare i nostri passi su questa via che ci conduce al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù bambino nella grotta di Betlemme. Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. La Santa Famiglia di Nazareth è modello di vita per ogni uomo, per ogni cristiano, per ogni famiglia. Infatti, come dicono i padri conciliari, quanto più la famiglia diventa cristiana, tanto più diventa umana. O Maria, fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ave Maria, piena di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù, bambino al Tempio. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Le parole pronunciate al Tempio di Gerusalemme da Simeone caratterizzano l'inizio dell'itinerario di fede di Maria. O Vergine coraggiosa, ispiraci forza d'animo e fiducia in Dio perché sappiamo superare tutti gli ostacoli che incontriamo nel compimento della nostra missione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci ridurre in pecazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio lo prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio lo prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio lo prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio lo prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio lo prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio lo prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio lo prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Perché mi cercavate, disse Gesù? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Com'è strana la risposta di Gesù e come fa riflettere. Era una risposta difficile da accettare, che si sarebbe resa comprensibile solo più tardi. Maria, accogliendo e meditando nel suo cuore gli avvenimenti che non sempre comprende, diventa il modello di tutti coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri rei, come noi rimettiamo ai nostri ritori, che non ci indurre in tentazione. Liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il tuo figlio, è l'assessore del seno, Gesù e Gesù. Preghiamo ancora per il Santo Padre, il Papa Francesco e per le sue intenzioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dolcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii eve. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, posto d'exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Preghiera alla Vergine Maria di San Paolo VI. O Vergine Maria, tu fai parte essenziale del mistero della salvezza. Da te noi abbiamo ricevuto Gesù. Per essere cristiani imitatori di Cristo, dobbiamo guardare a te, o Maria. Tu sei la figura più perfetta della somiglianza a Cristo. Tu sei l'immagine che meglio di ogni altra rispecchia il Signore. Com'è bello avere te, o Maria, avere la tua immagine, il tuo ricordo, la tua dolcezza, la tua umiltà, la tua purezza, la tua grandezza davanti a noi che vogliamo camminare dietro i passi del Signore. Tu sei la nostra protezione, tu sei la nostra alleata. Tu sei la fiducia dei poveri, degli umili, dei sofferenti. Tu sei il rifugio dei pecatori. Tu hai una missione di bontà, di intercessione per tutti. Tu ci insegni a essere buoni e a essere forti, a essere pietosi con tutti. Noi non dimenticheremo mai di guardare a te come alla nostra massima protettrice. E così sia. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. O Vergine Maria, Regina del Ciel, a Lourdes ritorna il popol fedel. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ave, ave, a mostA Hadja. Ave, ave, ave. Grazie.